Possiamo partire, oggi abbiamo un quicklab su mail store e in particolare sulle ricerche di mail store. L'idea è che mail store archivia sì la posta, ma se non la si trova, la posta archiviata, quando la si cerca, è un problema. Quando però si fanno le ricerche, a volte, io spesso faccio così quando sono di fretta e sono convinto che molti utenti facciano come me, cosa si fa? Si va nella schermata di ricerca di mail store, si inserisce un termine, magari due al massimo, di quelli che sappiamo essere parte, contenuti nella mail che cerchiamo e clicchiamo su cerca. Funziona per carità questo sistema, solo che ha due problemi. Prima di tutto ci mette molto a cercare perché se non diamo dei limiti di data e non diamo dei limiti di, mettiamo magari dei termini molto vaghi, possiamo ottenere molti risultati, molti risultati in tanto tempo. Per cui la nostra esperienza non è ottimale, l'esperienza dei nostri clienti non è ottimale. Vediamo che dobbiamo ripetere la ricerca perché abbiamo cercato senza mettere troppi filtri. Se invece conosciamo alcune piccole astuzie, riusciamo a risparmiare tempo e a avere un'esperienza migliore. Tra l'altro, proprio di recente, mail store, intesa come azienda, ha introdotto una nuova funzione nella ricerca di mail store, cioè la possibilità di cercare parole alternative. In breve, la possibilità di utilizzare l'operatore logico OR nelle ricerche. Però come si faccia non è così evidente, adesso lo vediamo. Vediamo innanzitutto che ci sono diversi sistemi per accedere alla ricerca di mail store. Io vi farò vedere quello che riguarda il client mail store con l'interfaccia web o con l'outlook ad in è circa lo stesso, quindi non ci sono grosse differenze. Però vi faccio vedere il client mail store. Nel client mail store ci sono due forme di ricerca. Per esempio c'è la ricerca rapida qui in alto, ve la faccio vedere direttamente sul server di test. C'è una ricerca rapida qua e c'è una ricerca avanzata che troviamo qui sotto. La ricerca avanzata ci permette di specificare per esempio la data di ricerca, cosa che ci fa risparmiare molto tempo, la data di archiviazione e ci può magari permettere di scegliere un archivio nel quale effettuare la ricerca. Ora, quali sono alcune piccole astuzie? Per esempio, diciamo che io cerchi nella mia ricerca rapida le parole, queste due parole che sono corrispondenti a un newsletter a cui sono iscritto. E vedete che mi trova subito le mail che contengono entrambe le parole. Se io invece uso delle parentesi quadre che sostituiscono l'operatore OR, quindi faccio così, ecco che mi estrae non più, non solo tutte le parole, tutte le mail che contengono entrambe le parole, ma anche quelle che contengono, come per esempio questa, una sola delle parole. Un'altra cosa molto utile è l'operatore, il meno, che indica la negazione. Io voglio cercare tutte le parole che contengono la parola volo, ma non buona. Metto un meno prima della ricerca ed ecco che vedete, vengono estratte, vengono estratte solo le parole che contengono la parola volo, ma non più quelle che contengono la parola buona. Questa cosa posso anche combinarla con, per esempio, le parentesi quadre, quindi uso un operatore OR, vedete, che mi estrae le mail che non contengono né una parola né l'altra. Una cosa che non posso fare è di mettere il meno qua dentro. Non posso farlo, quindi se lo faccio mi istituisce solo le parole che contengono la prima parola. Per esempio posso utilizzare un asterisco e mi estrae tutte le parole che iniziano con la stringa BON. Una cosa però molto particolare della ricerca rapida e che è molto utile non tanto ai nostri clienti quanto a noi è la possibilità di specificare, che non è esattamente una ricerca, ma è la possibilità di specificare qui in questo campo un messaggio direttamente senza ricercare, ma semplicemente specificando l'ID del database e l'ID del messaggio. L'ID del database lo troviamo qua, 1, 2, 3, l'ID del messaggio è contenuto negli header. Solitamente questo si fa quando si cerca un messaggio che non ci risulta, oppure quando un messaggio lo istituisce un errore e nei log vediamo l'ID. Qui facciamo un esempio, per esempio qui, prendiamo un messaggio completamente a caso, e non è il mio archivio personale dove ci sono per non... Andiamo qui nella spam. Su, ve la ricevo io qui, se vado, se guardo le intestazioni del messaggio, noterò che c'è un ID database e un ID messaggio. Se io questi li copio, 3, 56, 55, e li inserisco qua, 3, 2 punti, 56, 55, ecco che senza cercare il messaggio mi viene immediatamente portato su. È utile se ci sono gli indici di ricerca danneggiati o se, per esempio, c'è un messaggio che restituisce un errore e troviamo nei log questo identificativo, ID, 2 punti, messaggio. Questa caratteristica è solo della ricerca rapida, non posso farlo nella ricerca avanzata. Nella ricerca avanzata qui c'è una funzione che a volte non è evidente. Tutte le cose che vi ho detto e molte altre si possono utilizzare anche dalla ricerca avanzata. Per esempio l'or che vi dicevo o la funzione il trattino che nega la prima parola che cerca le parole, che esclude la prima parola dalla ricerca. Ma una cosa molto interessante che si può fare dalla ricerca avanzata, non dalla ricerca rapida e che è utile, è quella di salvare la ricerca come una cartella ricerche. Che utilità, oltre a salvare la ricerca da queste parti, è l'utilità di, oltre a non dover di nuovo, se è una ricerca che facciamo frequentemente inserire il testo, abbiamo la possibilità, quando facciamo un'esportazione, di esportare le ricerche salvate, come per esempio quella che ho salvato proprio adesso. Ora, una ricerca su una stringa magari non ha molto senso, ma se io faccio dalla ricerca avanzata una ricerca per esempio personalizzata, per quanto non c'è contesto, ma mi limito a dire cercami tutte le mail per esempio dal gennaio 21, 22, 23, ecco che ho una ricerca per anno. Facciamo 20, 20 perché penso che non ci siano mai così recenti nel mio archivio di test. Neanche così recenti, comunque posso fare una ricerca per anno e poi salvare il risultato di questa ricerca, magari con il titolo 20, 20, e ottenere quei così facilmente esportando, quei PST divisi per anno, che molti clienti spesso ci richiedono. Vedo che ci sono delle domande. Sì, le ricerche funzionano anche nel plugin di Outlook. Credo proprio di sì, te lo confermo, io ho fatto i test solo sul client mail store, ma lo posso fare subito, guarda. Posso andare qui in mail store, sfogli archivio, qui ovviamente, questo non è più ovviamente il mail store di test, sul quale non ho configurato un add-in, ma vediamo la ricerca rapida. Per esempio, Bruno, eh, vabbè, Emilio, direi che non ha per ora restituito errori, la ricerca sarà abbastanza più, facciamo una ricerca avanzata, forse meglio, perché altrimenti rischiamo di, magari cerchiamo solo le mail di quest'anno, in maniera tale da non andare a, di non andare a sbattere nell'effetto che dicevo prima. Per esempio, proviamo adesso a togliere negare la seconda parola, vediamo, Emilio, ma non Polenghi, qui in realtà, no, così non funziona, abbiamo detto, bisogna metterla all'esterno, il meno, cerca le parole che contengono, sai che non funziona, ti rispondo perché, credo proprio che qui dal, dal, AutoCAD-in non funzioni così bene. Torno sul mio maestro di test, bene, vediamo se ci sono altre domande, credo che non ce ne siano, però se ne vengono in mente altre più tardi, o domani, o dopo domani, mandatemi una mail a supporto, chiocciola, hellovaid.it, o, forse c'è una domanda, è l'ultimo minuto, approvato, funziona, asterisco, e negazione funziona, grazie Emilio, per l'aggiornamento, bisogna fare, credo, altri test, grazie a tutti, buona giornata, buon weekend, e a presto. se c'è una domanda dell'ultimo minuto, vabbè, di nuovo, buona giornata.